ripartiamo dalla voce il podcast della federazione italiana teatro amatori la magia delle voci la prima volta che l'ho visto mi era sembrato tanto brutto a prima vista bello non è quando gli ho aperto la porta si è tolto il cappello e mi ha detto sarebbe interessato a comprare delle spazzole signora io ho sbattuto la porta in faccia mica faccio entrare uomini in casa io e non si sa mai quello che può succedere beh ragazzino della presse a lui lo faccio entrare è ancora così giovane e non mica cattivi pensieri un mese dopo quel mio tipo delle spazzole è tornato c'era una tempesta di neve spaventosa e allora l'ho fatto entrare nell'ingresso ma una volta dentro casa ho avuto paura e mi sono detta beh non ha poi l'aria così cattiva anche se bello non è però è sempre tutto a puntino ma è un capello fuori posto un vero signore e poi è così educato da quella volta è tornato tutti i mesi bene beh delle volte non compro niente viene così solo per fare due chiacchiere è così fine quando parla ci si dimentica che brutto poi sa un sacco di cose interessanti viaggia da una parte all'altra della provincia che uomo io penso io penso che lo amo beh magari 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 non ha senso lo vedo solo una volta al mese ma stiamo così bene insieme e sono così felice quando c'è lui è la prima volta che mi capita la prima volta gli uomini non si sono mai occupati di me sono sempre stata una ragazza sì sono sempre stata una ragazza sola poi mi racconta dei suoi viaggi mi racconta le barzellette a volte sono molto sporche ma sono così buffe sinceramente mi sono sempre piaciute le storie un po sporche beh non sono mica tutte sporche a volte sono pulite altre sono così sporche che divento tutta rossa l'ultima volta mi ha preso una mano mi ha preso una mano che ero diventata tutta rossa manca poco che svengo mi ha tutta scombussolata sentire quella manona sopra la mia ho bisogno di lui oramai ho paura ho paura che se ne vada per sempre a volte sogno beh mica tanto spesso sogno sogno che siamo sposati ho bisogno che mi venga a trovare è il primo uomo che si occupa di me non lo voglio perdere non lo voglio perdere se va via resterò di nuovo sola ed io io ho bisogno di amare sì ho bisogno di amare io ho bisogno ho ho bisogno di un uomo ho bisogno di amare